Federico Aguggini, Innovation Consultant Risas Italia, nella trasformazione digitale in atto anche nell'ambito insurance, quali rilevanze assumono le nuove forme di data analytics? Ovviamente è fondamentale, il mondo dell'insurance è un mondo che per anni ha subito un lack of information, quello che io chiamo lack of information, cioè un gap informativo importante rispetto ad esempio al mondo bancario, al mondo finanziario, quindi la trasformazione digitale, il mondo dell'IoT sicuramente ha portato in dode la capacità, la possibilità di estrarre sempre più informazioni dai dati e quindi ovviamente per estrarre informazioni, monetizzare i dati, quindi estrarre intelligenza dal dato diventa sempre più importante il tema degli analytics o degli advanced analytics anche in real time, quindi se io voglio interpretare meglio, capire meglio il comportamento del mio cliente, lo posso capire da diversi touch point che il cliente ha con me, che possono essere il web, che possono essere sicuramente i touch point del mobile, ma anche capire come ad esempio sta guidando l'autovettura, dico una donna d'età, quindi i driving behavioral, gli stili di guida diventano importanti per tanti aspetti, capire meglio il mio portafoglio, quindi per me è assicurazione comprendere meglio il mio portafoglio, quindi diventa sempre più, lasciatemi dire, vivo e attivo il portafoglio, anche la capacità di aggiungere intelligenza o estrarne a seconda dei punti di vista informazioni dal proprio portafoglio, predire i crash, predire i rischi, predire le frovi, ma anche capire meglio il mio cliente, quindi noi parliamo di customer base aumentata, aumentata attraverso questi touch point e attraverso gli stili di guida che mi permettono appunto di capire meglio chi sono i miei clienti, quindi in un processo che noi chiamiamo di uberalizzazione del mondo insurance, quindi diventare sempre più un'assicurazione, accettare la sfida delle insurte, quindi delle nuove nate, delle nuove minacce dal mondo tecnologico, accettarla e sicuramente vincerla attraverso gli analiti, questo sicuramente è uno dei temi fondamentali challenging nell'arco dei prossimi anni nel mondo assicurativo, ma anche lasciatemi dire per sicuramente monetizzare le proprie informazioni all'interno del proprio business usual, come ho detto fino adesso, ma costruire una serie di soluzioni valore aggiunto, ad esempio capire come attraverso lo stile di guida capire come ha guidato l'autovettura mio figlio durante il weekend o come abitualmente la guida alla moglie piuttosto che a chi ho prestato l'autovettura o piuttosto che avere un rating, una sorta di trip advisor del proprio stile di guida e andare a contrattare col mondo assicurativo, dicendo io ho uno stile di guida di questo tipo, posso in maniera un po' più dinamica rispetto a un attestato di rischio, lasciatemi dire, capire meglio qual è il mio valore come assicurato, qual è il mio valore come cliente. Quindi quale può essere un altro esempio di approccio data driven applicato concretamente? Come ho già un po' in parte risposto, l'approccio data driven è la capacità di estare valore dal dato, quindi noi parliamo di monetizzazione, quindi monetizzare il dato come ho raccontato prima per fare i servizi tipici del mondo assicurativo, ma monetizzare il dato può significare anche utilizzarli in maniere che fino ad oggi erano nascoste, inespresse, ad esempio facendo delle monetizzazioni esterne, costruendo dei servizi a valore aggiunto anche per mercati paralleli, contigui o fino a ieri inesplorati, faccio un esempio, utilizzare le informazioni di driving e behavioral per vendere queste informazioni e quindi monetizzarle nell'ambito appunto delle telco, delle utilities, piuttosto che nel mondo anche bancario.